salve cari fratelli e cari amici ci accingiamo a fare un nuovo video scusate scusate un attimo mi sono pronto pronto mi parla pronto 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 Pronto? Ma chi è? Pronto? 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 Chi parla? Pronto? Pronto? Ma non è che si sente tanto? Pronto? Un partigiano, un patriotta? Pronto? Pronto? Lei chi è? Papa Massimo? Come Papa Massimo? Non capisco. Ah, lei si trova in riunione con i fratelli d'Italia? Eh sì, è da me che vuole, mi scusi. Come ha detto? Ah sì, non ho capito, lei se l'è sentita? Ma che cosa? L'inno di Mameli? Come ha detto? È al mercato? Mi faccia capire, è al mercato o è alla riunione dei fratelli d'Italia? Non riesco a ben sentirla, a ben capirla. Pronto? Pronto? E' bellina sta musichetta, mi ha messo in attesa. Pronto? Ma mi posso mettere io a perdere tempo? Bello? Pronto? Pronto? Ma scusi, mi scusi tanto, se lei mi vuole parlare, almeno si allontani dagli altoparlanti, dalla cassa, e non ho capito, ma mi scusi, adesso, ma lei adesso si trova al mercato? Ah, deve comprare dei meloni? Come? No, 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 è con fratelli di... Fratelli d'Italia sono al mercato con meloni? No, 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 ha una riunione politica con la meloni? Eh sì, ma è da me che vuole? Eh, va bene, ma io non è che ho detto delle cose non vere? Eh, come ha detto? Eh, e allora? E beh, direi, faremo una pecora, e beh, io sono una pecora del Signore, e lei da me che cosa vuole? E al circo Massimo? Ah, no, no, lei si chiama Massimo! Eh? No, no, non ce n'ho bisogno, ho visto che lei si trova al mercato per prendere i meloni, e no, no, i pepi non mi interessano. No, no, c'ho qui un amico mio che merita che ricoltiva nella pianticee. Ah, no, lei è Massimo ripepi? Ah, ora che... E allora? Ma mi scusi, ci conosciamo, ci siamo mai visti? Eh? Ah, lei è un personaggio pubblico? Ah, va bene, io... 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 Eh, sì, eh, e allora? Eh? Lei è il papà? Lei è il papà di chi? Ha una famiglia numerosa? Molto numerosa? Eh? Eh, addirittura! Lei è un papà che ha dei figli più grandi di lei come età. Bestiale! Ah! Ma lei è... Ma lei chi è? Eh? Eh? E allora? Non è che sto capendo tanto... Ah, lei è il figlio di Giliberto Perri... Non è lei proprio il figlio, ma l'ha partorito... L'ha partorito lui. È uscito dalle sue viscere. Eh? Ma... Dalle viscere della terra o dalle viscere del cielo? Non capisco che me... Ma adesso ci sono gli uomini che partoriscono pure? Eh? Va bene, diciamo, con tutti questi esperimenti di genetica, tutte queste cose... Ah, non c'entra questo? Eh? Eh? Lei è uscito dalla scuola di Perri. Eh? E allora? Lei vuole stare in pace e... Ha fatto il patto di pace con chi? Non è che riesco a capire tanto bene... Cioè... Cerchiamo di recapitolare perché io non ho la mente sveglia come lei... Certo che deve avere una... Cioè... Allevare tutti questi figli... Eh? È una grossa responsabilità... Ma quanto prende lei di assegni familiari con tutti questi figli che lei ha? Perché ho sentito dire pure che... Eh... Che... Giliberto aveva una famiglia molto numerosa... Eh... Sì, mi è stato detto... Ho conosciuto pure qualcuno che è stata... Una donna che è stata partorita... Da... 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 Da Giliberto... E non lo so quanti parti... Quanti... Quanti figli avete... Avete? Lei... Lei è stato figlio di Giliberto? Partorito da... Da Giliberto? Eh? E ma... Quanti figli ha Giliberto? Ha avuto, diciamo... Perché ora purtroppo... Ho sentito dire che è venuto a mancare? Eh? 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 Poverete... Certo la perdita di un padre del genere lascia tutti orfani... Ma no male che il Signore ha detto io non vi lascerò orfani... Certo che poi... Che se... Se... Capi... Capi... Capisco... Capisco... Eh? Ha lasciato il patto di pace... Mmh... Eh? Eh? Di chi è sto patto di pace? Un partito politico? Ah? Maggi... Mi... 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 Mi consenta... Direbbe... Berlusconi... E lei poi... Mi sembra di capire che lei è un po' nella politica... La Meloni con Berlusconi... La Meloni con Berlusconi... Con i pepi... E... Vabbè... 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 Diciamo comunque non è... Meloni con i pepi... Non... Non... Non ci si abbinano tanto... Ma comunque poi diciamo... E voi politici... Saltate da una padella all'altra... Sì... 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 Eh... Avete... Eh... 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 Non... Di pubblico dominio... Eh... Cioè non... Non è vero che lei si fa chiamare papà... Che lo chiamano papà... Eh... Eh dai Massimuccio... Dai... Ce nascondiamo in queste cose... Ormai lo sanno... Eh... 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 Vabbè... Ma poi... Almeno... È una cosa importantissima... Prima che lei sale sul pulpito... Per fare il culto... Almeno... Per questione igienica... Si lavi bene le mani... Ma non come Ponzio Pilato però... Eh... Perché lei... Vabbè... Diciamo che comunque i capelli... Non è che ne ha molti... No... Che c'entra? Quello è... Uno che ha pochi capelli è pelato... Pilato... Non c'entra... Ma... No... Per una questione igienica... Perché se lo sa l'igienista mentale... È perché... Farsi baciare le mani... Eh... Presume... Prima di averle ben lavate... Di averle pulite... Ah... Di Pietro... Ah... C'è Di Pietro di mani pulite... Che le controlla le mani... Prima che... Che vengono... I suoi figli... A baciarle le mani... Ma... Le dicono pure... Vosiasa benedica... Eh... Ma lei... Perché se fa baciare le mani... Ah... Sono loro che insistono... Eh... E lei sa che può... Sa che può fare... Mi viene... Mi viene un'idea un pochettino comica... Lei visto che si chiama Ripepi... Si mette un po' di pepe nelle mani... Così appena arrivano che le baciano la mano... Si che potenza... Sento un calore dello Spirito di Dio... E invece il peperoncino... Certo che sarebbe uno scherzo da prete... Ah no... Lei è pastore... Mi scusi... Allora... Non lo può fare perché... Sarebbe uno scherzo da prete... Certo che... Arriva in chiesa... Lei dal pulpito... Gli porge la mano... Quello... Le basa la mano... E lingua di fuoco... Con i pepi... Con il peperoncino... Certo... Quello si sentirà... Veramente... Ripieno di Spirito Santo... Perché... Gli andrà a fuoco la lingua... Sarebbe una cosa un po' comica... Ma noi altrimenti siamo persone serie... E se... Come diceva Toto... Pure... Queste cose... Queste cose... Qui non le facciamo... E baciamano... Ma che... Ma che so queste pagliacciate? Certo... Eh... Sì... Poi... Lo scherzetto del peperoncino... Di li pepi... Che mette il peperoncino... Il massimo... Del peperoncino di li pepi... Che poi... Se è piccante... Perché quelli calabresi... Non scherzano... E io... Ne so qualcosa... Una volta sono andato... All'Ogri... In una famiglia... E hanno fatto... Sì... Hanno fatto la pasta... Con una specie di mollicata... Che lei... Ovviamente... Essendo lì... Della zona di pepi... Se ne intende... E... Praticamente... E... Stasorella... Ha fatto questa cosa... Con la mollicata... E... Gli spaghetti... E... Sì... Sembrava... Rossiccia... Io ho pensato... Sarà... Salsa di pomodoro... Che gli dava quel colore... Mi creda... Papà Massimo... Mi creda... Le dico... Che appena ho preso... Una forchettata... Mi si stava incendiando... La bocca... Lingua di fuoco... E gli ho detto... A questa sorella... Sorella... Ma che cavolo... Ci ho messo i pepi... I peperoncini... E la sorella... Ce lo poteva mettere... Un po' meno... E la sorella... Mi ha detto... Noi siamo... Pentecostali... E perciò... Lingua di fuoco... E... E... No... No... Non è... Non è peccato... No... E che c'è... Mangiare il peperoncino... È peccato... No... No... Ma che hai capito... Ti posso dare tu... Massimo... Anche se tu sei il massimo... Io sono il minimo... Tra i fratelli... Tu sei il massimo... Sì... Sì... No... Non sono... Ma che hai capito... Ma chi... Chi ha detto mai... Che è peccato... I pepe sono peccanti... Sono piccanti... Pepe... Non piccanti... E che... Che... No... No... Puoi stare tranquillo... Se uno si mangia il peperoncino... Non picca... Eh... Il peperoncino picca... Ma non picca picca... Picca tanto... Eh... Eh... Ma comunque tu sei pure una persona... Una persona abbastanza pepata... Sì... 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 Eh... E... Come? Eh... Sì... Tutti quelli del Parlamento... Ma sai quanto parlano quelli del Parlamento? Poi ci sono i consiglieri... Ci sono i bersaglieri... Ci sono i bersaglieri... I bersaglieri... Non è che c'entra i bersaglieri con i consiglieri? Sì... Ma io... Io l'ho conosciuto un consigliere... Sì... 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 Ma quello che ho conosciuto io era un'altra cosa... Non c'entra il consigliere comunale... Non c'entra... Quello era... Prima Reggio! Con i triangoli... No... No... Di quei consiglieri... Ho conosciuto il consigliere mirabile... Che mi ha consigliato di non avere a che fare con i consiglieri e con i politici della Terra... Che sono corrotti... Eh... Ah... E tu li frequenti per correggerli... Perché sono corretti... Sono corretti... Sono corrotti... E tu li correggi? Per farli diventare incorrotti? Ma comunque... Queste sono cose... Voi siete massimi... Tu sei il Papa Massimo... Il Massimo Pontefici... No... Non c'entra... Tu con i pontefici... Non c'entri... Ma mi devi scusare... Perché sai... Io sempre devo chiedere... Una persona così ignorante... Ma come va? Come va il patto di pace? Dopo essere uscito di scena... Perri... Come va il patto di pace? Avete stato ammazzato come i cani tra di voi? Vi siete divisi in pace? E come... Avete fatto il partito di pace? E non c'è pace? Ma avete provato a rapacificarvi? Ehi... Scusa... Scusa... Massimuccio... Massimuccio... Ascoltami un attimo... Fammi dire una cosa... Cioè... E praticamente... Come? Vi state ammazzando... Le dieci... Cose... Chiese... A petti... Chiusi... E non è possibile... E le... E l'eredità di papà... Di papà di Gilberto... Che partorisce... Ha perciò tutti i figli di Gilberto... Partoriti da Gilberto... Certo... Vi siete divisi... Eh? Ah... Ma... Ma questa è... Scusa... Ma sì... Vabbè... Capisco... Gli altri non hanno la sana dottrina... Sì... Sì... Ognuno ha la sua... Ma... Ma... A me risulta che il Signore... Faceva addizione e moltiplicazione... E mi sa che voi... Papi... Papetti... Fausto Papetti... E... Fate divisioni e sottrazioni... Ah... Perciò è morto il Papa... E siete diventati tanti papetti... Ognuno con la propria parrocchia... Eh? Ma... Ma date d'accordo? E... Una certa signora Elena... Mi ha detto che tu non hai preso di papà di suo padre... Giliberto... E ce l'ha con te... E non lo so se ce l'ha... Ma voi vi siete divisi... In comune accordo? Siete tutti d'accordo per ammazzarvi tra di voi per litigare? Eh? Eh? Eh... 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 Questa... E' l'opera che devo continuare... Ma che... Questa mi sembra quasi l'opera dei pupi... Scusa Massimo... Mi consinta... Tutti partoriti... Dal... Ministerio... Lo stereo picco... No, lo stereo piccolino... Ma che mi fai a dire che c'entra il Ministerio? Dico il Ministerio di... Eh... Di perri... E tu lo sai... Non ho conosciuto pure di persona trent'anni fa... Sono venuto lì... C'è stato pure... Mio figlio che è assonato in una comunità... Che era, mi sembra una sorta di scantinato... si scendeva verso sotto, sì a quel periodo c'era pure Evaristo, lui cantava, predicava e c'è stato pure mio figlio che gli ha suonato l'inni di Evaristo, ma tu eri già stato partorito da Perri in quel periodo o ancora non ti aveva partorito. Non lo so, forse tu sarai relativamente giovane, ma vabbè io sono il vecchietto e si sopportano, perciò tutta la situazione va bene così. Comunque parliamoci chiaro Massimo, poi alla fine avere tutti questi figli c'è un vantaggio con gli assegni familiari, poi c'è il partito, ci sono i meloni gratis, ci sono le opere, sì, le opere sociali, sì, le opere di carità. Se c'era Dodo diceva, ma mi faccia la carità, ma mi faccia piacere. Comunque questa, questa del baciamano, comunque è una bella pensata questa qua, ma mi risulta che pure i cosiddetti mamma santissimi della mafia, gli baciavano le mani. Baciamo le mani a voci, Don Peppino, nei tempi passati, Don Vito con Leone. Te lo ricordi il film? Sì, quello della mafia, il padrino, te lo ricordi, gli baciavano le mani. Sì, pure Paolo si faceva baciare le mani. Appena vedevano a Paolo i fratelli, baciamo le mani, fratello Paolo, e Paolo dal pulpito si faceva baciare la mano. Sì, sì, è sinonimo di umiltà, sì. Comunque non lo so se sei fratello perché c'è un altro papà che si fa baciare la mano. Sì, ma per andare da quello bisogna andare a Roma. Sì, è biblico, come no? È biblico, pure Paolo dice io vi ho partoriti ai Galati e praticamente questa qua dice mi ha partorito, mi ha partorito. Giliberto, papà, 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 papà. Sì, ma infatti l'ha detto al Signore, Cristo Gesù, gli baciavano le mani i discepoli. E lui l'ha detto Gesù, il maggiore sia il minore in mezzo a voi e si faccia baciare le mani. Sì, 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 certo, è sinonimo di rispetto. Sì, perché un ministro è un uomo degno d'onore e perciò gli uomini d'onore bisogna baciargli la mano. Sì, 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 certo, è normale tutto questo, è normale, lo faceva la Chiesa Primitiva, lo facevano pure i padri della Chiesa, i filosofi. Sì, ma tu hai fatto qualche corso biblico? Hai fatto un corso di corsa o l'hai fatto... È stato un corso accelerato? Eh beh, è accelerato... Sì, la Ionica... Non è accelerato, che ho capito io, la ferrovia perché... Se impiega parecchio tempo l'ha accelerato, tu l'hai fatto espresso diretto... Eh beh, l'espresso comunque è una buona cosa, se ti metti il caffè buono è positivo. Eh, certo. Comunque, diciamo, quello che ho detto risponde a verità. Ah, è verità, ma tu non lo puoi dire esplicitamente? Ma poi, scusa, scusa quest'altra cosa, io veramente stentavo a crederci. Vi fate il segno della croce pure nelle vostre Chiese? Recitate il credo. Io credo che non avete capito niente. No, avete capito, certamente, come no? È il partito della pace. Patto di pace. Pure... Ma pure qui a Messina c'è pace del Mela, c'è il villaggio pace sulla Litorania. Ah, qua a Messina abbiamo pure la Valle degli Angeli, che ne sai? Massimo, che ne sai? Qua siamo bene attrezzati a Messina. Sì, sì, sì. Poi abbiamo la Chiesa modello Cannavo. Sì, 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 siamo... Vabbè, comunque... Nel loro piccolo sono... No, ma io non c'entro con tutte queste cose, no. Sono un eretico io. No, no, non mi sono mai fatto baciare la mano. No, certamente perché non sono al tuo livello. No, no, no. Come se non ci possa arrivare? Ci vuole la scala per arrivare al tuo livello. Eh? No, no, non c'è neanche un pulpito, niente. Io a Massimo e i miei fratelli li abbraccio e ci scambiamo il santo bacio della carità, come dice la parola del Signore. No, baciamani, mai. Non le ho mai baciate a nessuno e non me lo sono mai fatte baciare. Baciamo le mani! Ma piace però questo fatto che uno va in chiesa, trova il pastore e la pecora va dal pastore e gli lecca la mano. Questo sì, riconosce il pastore. Pagano pure le decime, le pego le tue, povere disgraziate. Eh? Sì, riconosce tutto il pacchetto di vacanza dei religiosi. Capisco, Massimucci. Comunque, diciamo, internozzo, possiamo dire, anche mio figlio fa parte dell'organizzazione. E no, no, è un'altra organizzazione. Tu sei un papà per i fatti tuoi. No, mio figlio è inserito con gli apostolici, lì c'erano gli altri padri. Sì, sì. Sì, sì, pure lui, pure lui foraggiato. Sì, sì, sì. Costruiscono le chiese, centinaia di migliaia di euro. Sì, pagano... È bella questa cosa qua perché, alla fine, parliamoci chiaramente. Eh, certo. Praticate la decima, le offerte, sempre malachia, 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 malachia. Voi mi rubate, mi rubate. Quelli si convincono che stanno rubando il sì, sì, sì. E ci credono. E che fai, ridi, lo so. Ci credono. Mi pagano dieci, mi offerte, voi comprate, vendete, locali di culto che poi rimangono che sono vostri, della vostra organizzazione. No, ma quando, ma il delinquere... No, no, no. È una... È un'organizzazione legale... È un'organizzazione legale, come l'ora legale. Ecco, dico tanto per dire, è legale l'ora. È legale pure la decima, l'offerta, l'otto per mille. Ma tu ce l'hai la licenza di sposare, eh? Ah già, tu sei nella politica. Ma è che ci vuole... Non è che ci vuole tanto. Comunque... Massimo! Oh! E fammi parlare un attimo. Come hai detto? Eh? Eh? Questo... Questo veramente non te lo so dire. Non te lo so dire questo qua. Eh? Perché può succedere di tutto. Può succedere, caro Massimo... Eh? Può succedere di tutto. Perché... Ma... Quanto? Ha? E' stata la Meloni? Ah la Meloni di Fratelli di... Eh? 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 Perché tutto è cominciato... gliel'hai spiegato a tutti i fedeli che tu ti ha cominciato lì col problema? Io penso che sarebbe stata forse una sua antenata di melone, non lo so. Il problema della mela! Ti ricordi il fatto che gliel'hai spiegato all'assemblea ai tuoi figli? Gliel'hai spiegato questo fatto della mela? Vabbè, perché sennò se se tu trovi la genealogia di melone scoprirai anche il peccato originale perché è stata tutta colpa della mela e ora tu hai a che fare con i meloni? Andati, e non è che il melone te lo sei mangiato, no? Massimo, oh, mi senti? Pronto? Ah, si è rialzata la linea, era caduto. Sì, uno dei fratelli d'Italia ogni tanto fanno questi scherzetti gli ha fatto lo sgambetto alla linea e era caduto. Eh si, perché poi se uno perde la linea è ingrassa. Eh? Tu la mantieni? Eh? 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 Eh, perciò praticamente tutto funziona così. ma comunque ovviamente voi altri siete tutti in comunione tra di voi. Dopo la morte di Perry, del patriarca, tutti voi figli siete sempre sulla stessa arca. O vi siete messi a fare i buchi nell'arca e state affondando e ognuno si è fatta la sua barchetta, si è aperta la sua minicomunità. Sì, 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 ma tutta questa cosa... Ma in Calabria c'è stata... Ma tu l'hai saputo il fatto di Calderazzo? quel tizio di Siderno della zona di Locri che si erano spartite tutte le chiese, poi tutto lo scandalo che è successo. Sì, ma queste cose succedono a loro, papà. Papà Massimo? Voi certamente, sì, 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 sì. È naturale tutto questo perché queste non hanno capito niente. le persone spirituali si fanno baciare le mani e più spirituali sono. Se continui così ti vuoi far baciare pure i piedi. Sì, sì, sì. Certo perché per quella donna erano i piedi di Gesù. È normale, anzi ti sei moderato fino ad ora. Ah, perché tu sei pure il sicario di Cristo. Ah, come il vicario sei papà. Perché Gesù ha detto che ha visto me, ha visto il Padre. Perciò, ah, chi vede te vede il Padre. Se non ha gli occhiali, sei cieco. Vabbè, li hai bene accecati tutti gli adepti? E ti seguono ciecamente? Certo che. Diciamoci la verità. Come? Pronto? Pronto? Eh? Era? 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 Eh? Era? Era caduta? Era caduta? Che? Era caduta l'anguria? Eh? Vabbè, meno male che non era caduta la meloni. Eh, vabbè, un'anguria in più o un'in meno. Eh? voi ve le fate pure gli auguri ah gli auguri ah gli auguri non c'entrano vi fate gli auguri ma gliel'hai spiegato scusa gliel'hai spiegato ai tuoi figli che l'augure era un indovino che praticava la magia l'augure gliel'hai spiegato ai tuoi chi era che c'è scritto in Deuteronomio capitolo 18 vecchi addiodati chi era l'augure che era un indovino romano e il Vaticano il monte dei vaticini gliel'hai spiegato no i latticini che c'entra i latticini era il monte dei vaticini degli indovini ah voi vi fate pure gli auguri ma che per scusa ora mi sorgono mi sorge un dilemma se questi che sono con te ti baciano la mano e ti chiamano papà ma questi allora sono i nipoti di Gilberto perché tu sei figlio di Gilberto questi ti chiamano papà e ti baciano la mano perciò Gilberto era il loro nonno ho sbaglio ah no siete tutti papi tutti papà e partorite tutti ah partoriva Gilberto partorisci pure tu e partorisci pure le mucche sì sì ah e perciò il latte che voi date è un latte pastorizzato perché il pastor eh 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 ho capito ho capito è certo perché parto quando una donna partorisce hai il latte perciò quando voi quando tu partorisci tutti questi bambini che avete partorito gli avete dato il vostro latte siccome sei un pastore un latte pastorizzato no ma io scusa io ho 70 71 anni già compiuti sai i miei neuroni non sono sveglio come 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 te perché certo perché per stare con la politica bisogna essere volpini bisogna scegliere compromessi eh Gesù ti ha detto di stare con Cesare eh e ti ha confidato Gesù che pure che pure Pietro che era stato costituito pastore andava con Cesare si metteva d'accordo col Sinetrio era un diplomatico oppure eh ah sì e poi mandò Paolo a Roma per parlare con Cesare per mettersi d'accordo con i Romani e con i Romani e con l'impero romano ma che te l'ha raccontata queste fesserie eh Giliberto quando si è intrupolato alla politica era un politico si aveva degli agganci ma lui era faceva parte del sistema ti ha sistemato pure a te ho capito va bene Massimo io le cose che ho detto sono realtà mi confermi pure tu che ti fai chiamare papà e che ti fai baciare pure la mano ma senti una cosa ma è vero perché nella Chiesa dove dove offigia mio figlio dagli apostolici hanno la croce pure voi avete la croce ma pure voi innalzate lo strumento di tortura del Signore sì sì ecco ma là beh certo siete papà tu sei papà c'è il papa pure che va in giro col pastorale e va sì e c'ha il il bastone col con la croce pure lui ma voi non ce l'avete l'omino sulla croce no voi avete solo il simbolo del della sede della sede elettrica dello strumento di morte del Signore e lo esponete e Gesù è lì in mezzo a voi che vi benedice è vero sì sì come no ma io ho fatto una ricerca fratelli cari nella Chiesa primitiva tu lo sai avevano tutte le croci sì da lì sono nati i crociati sì avevano le croci nelle Chiese quando si adonavano per adorare Dio che è spirito lo adoravano in spirito e verità gli baciavano tutte la mano a tutti gli Apostoli sì e avevano pure una croce avevano pure l'occhio di Horus a forma di pesce sì ma bisogna fare delle ricerche bisogna essere fatta di quelle proprio sì si scoprono delle grandi verità che non stanno né in cielo ma anche in terra ma nel cervello dei papà dei papi dei papi papi? ma ti chiamano papà o ti chiamano papi? a papà ho capito a nono perché ma sì eh sì a papà gli è caduto l'accento sì non hanno cercato in Vaticano l'accento dove l'accento del papà non hanno dicono ma non hanno trovato l'accento e ci chiamiamolo papa però lui puntualizza che è il santo padre ora tu che razza di papà sei? sei santo pure tu? sei pure tu il santo padre? come papa? ma chi è il santo padre? tu o il papa? quello si fa chiamare padre tu ti fai chiamare papà ma a proposito Massimuccio Massimo ascolta un attimo lo so che tu fai parte del Parlamento dove parlate sempre dove hai i comizi fai i comizi e fai le prediche dal pulpito e parli sempre e parli sempre stacca la spina un attimo ascoltami un attimo a me risulta ma forse mi sbaglio che nella Bibbia c'è scritto non chiamate nessuno padre sulla terra perché solo uno è il padre vostro che è il padre che è nei cieli tu dove sei in terra o in cielo? sei a terra? eh e perché ti fai chiamare papà che significa padre? ah tu sei un'eccezione ho capito ti ha autorizzato il Signore ma quale Signore? perché ce ne sono tante Signore, Signorine Signorie potestà dell'aria dominatori di questo mondo di tenebre sì, sì, sì capisco il Signore viene con la sua spezza a quando non ti conviene ci mette l'inno pronto? quando non gli conviene il discorso ci mette l'inno dei mamele ma 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 hai capito? boh boh eh dove è dove è la vittoria? avete perso? avete perso? pronto? pronto? ma ma questi sono fratelli in Cristo fratelli d'Italia chi sono? no ma 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 Grazie a tutti. Pronto? Ti sei nascosto? Massimo? Pronto? Meloni? Meloni? Angurie? Fratelli, che è la redazione di Fratelli d'Italia. Grazie a tutti. Pure la pausa gli hanno fatto. Pronto? 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 Mi ha chiuso il telefono. Mi ha chiamato il papà Massimo, ma quando non gli è quadrato il discorso mi ha chiuso pure il telefono. Mi ha lasciato con l'inno di Mameli. Devevi vedere. Adesso si è interrotta la linea, come potete vedere adesso si è interrotta totalmente la linea, vedete? Pronto? 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 Ecco. Non si sente, fratelli cari? Chiudo il telefono. Fratelli cari, scusate il disguido, poi magari quello che vi dovevo dire ve lo dico dopo. Adesso chiudiamo il collegamento. Fratelli cari, un caro saluto, un caro saluto anche ai seguaci del papà Massimo. Fratelli cari, io non lo so, ma credo che al Signore tutto questo del papà Massimo, del credo, del segno della croce, del segno di Zorro, non lo so quanto sia gradito a Dio. Ma comunque io invito anche i seguaci di Costoro a dire che corrono meno rischi se seguono un Castoro. Perché, fratelli cari, questa cosa sono in abominio dinanzi a Dio, fratelli cari. Poi vi potrei dire fate vobbis, in latinus. Fratelli cari, è una grande Babilonia. Io adesso, chiudo già il collegamento, era chiuso da prima, che praticamente il telefono, avete visto, il cavetto era qua. Perciò poi con l'inno, perché questa gente quando non gli conviene parlare ci mette l'inno di Mameli. Vabbè, qui in questo caso, quello dei Fratelli d'Italia per rispetto della Meloni. Ma a volte, sapete che succede anche nelle comunità? Se uno sta magari testimoniando o sta dicendo cose che non gli piacciono al papà, a quello che fa il papa, e fa un cenno all'orchestrina che cominciano a suonare, a cantare così non si sente più niente. Infatti ha messo l'inno di Mameli. Sono stato pure io compunto da uno spirito patriottico. Ma chi era un padre che è andato dall'ottico, l'inno patriottico? Fratelli cari, comunque, esaminate ogni cosa e state attenti, fratelli cari, perché se praticate qualunque forma di idolatria, trasgredite la parola del Signore e saranno guai per voi che fate il baciamano agli uomini, per voi che vi reputate figli degli uomini, perché, fratelli cari, noi siamo stati partoriti alla croce dal Signore nostro Cristo Gesù e questi impostori distorcono la parola e si sentono partoriti dagli uomini. Fratelli cari, Giliberto ha partorito tanta gente e ovviamente ci guadagnano con gli assegni familiari per tutte queste famiglie numerose e naturali, hanno bisogno di locali, ma abbastanza grandi, nell'ordine di centinaia di migliaia di euro, che poi, alla fine, quando tutte queste cose saranno distrutte, fratelli cari, e la gente magari se ne andrà, allora rimarrà il capitale. Ma non sanno che tutto sta per essere distrutto e che il Signore sta venendo per esercitare i Suoi giudizi. Io colgo l'occasione e anche esorto pure Massimuccio che diventi un po' minimuccio e che sappia che non sa dove nascondersi, dove si può mucciare quando viene il Signore, perché il Signore li scoverà tutti e li tirerà fuori con gli uncini dalle loro tane e non ci sarà posto dove si potranno nascondere i massimi. Fratelli cari, perché il Signore è adirato contro questo popolo idolato da questi idoli che si fanno adorare dagli uomini, che li chiamano figli, si presentano come padri e si fanno chiamare papà. Bene, fratelli cari, un caro saluto sempre alla prossima, se una prossima ci sarà!